Siamo qua per fare un mini vlog oggi, cioè cucina e film in poche parole, cioè cibo e film che è la copiata migliore andiamo a fare una torta al limone, visto che essendo estate, ecco, è rinfrescante, non dobbiamo accendere il forno appunto dopo invece vedremo un film, che lei ci spiegherà che film è è tratto da una trilogia di Christian Gere, trilogia delle gemme ed è uscito in Italia il primo e il secondo film esatto il terzo è uscito in Germania poco tempo fa, pochi giorni fa quindi è uscito da noi tra mesi molto tanto e intanto guardiamo il primo lui è un figo pazzesco suo fratello è un figo pazzesco, uguale quindi ecco, però suo fratello vedete nel secondo tanto vediamo di cucinare così vi portiamo dietro le quinte con noi e allora, questo è tutto l'occorrente perché praticamente è tutto dentro questa cosetta lì abbiamo il burro qua abbiamo il burro aperto, qua il burro chiuso cosa si fa? si apre il burro si butta dentro se lo stia su, stia su, stia su, bene ciao ciao Pronti per vedere il film, queste facce sconvolte, dopo vi mostreremo anche il dolce perché adesso è in frigo a riposare, per un'ora più o meno, sì un'oretta e mezza anche, comunque insomma adesso vi mostriamo, troppe scritte in tedesco, eh non importa, le scene di questa wonderful cosa, ma che figo, poi a Rollin, beh certo, aspetta eh, ah non è ancora figo, ah ma il codino, ma cosa pensa che sia la cameriera, ma è stata lei tipo, quanto mi dispiace, quanto mi dispiace eh, andiamo fuori sta torta, ma cosa hai fatto cioè, addirittura, fai colicina, col film sottofondo se si, bene bene, vediamo, la tratta per la notte come vedete, qui stanno avanti qua, adesso assaggiamo, quello sì che è una vera auto, magari la verità è che la figlia di madonna frequenta la vostra scuola, affigo, e l'altro pensavano anche loro, quindi, sì in effetti fa un po' schifo il vestito proprio, no è bello però, vabbè oddio, con i capelli, non devi altri capelli, se ne farà del male, se ne pentirà, non ti serve alcuna magia speciale, quando sei con me, dai capito, comunque già finiti i petali, bene, dopo otto ore di film, con i petali, dai, che da film proprio, finito, abbiamo fritto il film, come avete visto, siamo un po' stravolte, sono ormai le sette e mezza, quindi, adesso è troppo occupa nell'autobus, quindi ci lasciamo e ci sentiamo al prossimo vlog.